Questa mattina alle ore 12 a Forlì si sono aperte le porte di Italy, un'inaugurazione movimentata tra la confusione del numeroso pubblico, la presenza di personaggi conosciuti tra cui Oscar Farinetti, fondatore di Italy, e la moglie di Tonino Guerra e l'improvviso arrivo di Vittorio Sgarbi, ben accompagnato. Un taglio del nastro in cui non si è dimenticato di parlare il romagnolo e di citare un grande artista come Tonino Guerra, amico del patron di Italy. Un locale ricco di prodotti che si mangiano con gli occhi e affollato di invitati per questa inaugurazione a porte chiuse, che ha fornito in anteprima un assaggio di quel che sarà. Un in bocca al lupo per questo centro e questa piazza, tanto bella da essere così volentieri ammirata dalle finestre di Palazzo Taleti. Insomma, un bilancio positivo per questa apertura che fa ben sperare il sindaco Davide Drei per un rilancio del centro storico e far rinascere quella piazza da troppo tempo dimenticata. Una grande apertura che darà lavoro a 60 collaboratori e che è stata resa possibile grazie a Oscar Farinetti, alla Fondazione Cassa dei Risparmi, ma soprattutto alla famiglia Silvestrini.